Tunnel di Cernobbio si torna a lavorare. L'ANAS ha fatto sapere che riprenderanno dal medì 2 settembre i lavori di consolidamento della Galleria di Cernobbio, sospesi nei mesi di luglio e agosto per facilitare la circolazione durante il periodo estivo di esodo. Nuove chiusure in vista dunque. Per la ripresa delle attività sarà infatti necessario ripristinare la limitazione al traffico già in vigore nei mesi scorsi. Il tunnel quindi rimarrà chiuso al transito tra le 22 e le 6 di ogni notte con deviazione sulla vecchia Regina. Il crono programma di cantiere per questi mesi prevede iniezioni di riempimento dei vuoti nel rivestimento della Galleria, iniezioni di malte per l'impermeabilizzazione del rivestimento della Galleria, risanamento strutturale di due piazzole di sosta, rifacimento dei marciapiedi e posa della nuova controsoffittatura. La fine del cantiere resta confermata per il mese di maggio 2014. I lavori nel tunnel, va ricordato, non erano più rinviabili. La Galleria di Cernobbio, infatti, era stata classificata come la meno sicura d'Europa.